Salve, eccomi qua. Allora, siamo pronti per fare la solita ricetta del giovedì. Questa volta volevo fare la pitta pugliese. La pitta pugliese si fa con le patate, con il formaggio, le uova e poi in mezzo ci si mette un sugo fatto con la cipolla e il pomodoro, i capperi e le olive. Ho pensato di rimpiazzare capperi e olive con peperone, quindi fare un sugo bello, sostanzioso come sapore perché c'è il peperone dentro e fare una pitta di patate con il peperone, con questo sugo. Cos'è la pitta? La pitta è quello che viene chiamato anche il gâteau, però non va chiamato gâteau perché è quello pugliese e quindi ha una pitta e poi si fa con le verdure, mentre il gâteau si fa con i formaggi e con il prosciutto. Adesso vediamo quali sono gli ingredienti che ho scelto per fare la pitta. Allora, per il sugo userò questi quattro pomodori da sugo, questa cipollina, vedete ho preso una cipollina piccola e questo peperone, questi peperoncini, come si chiama, i cornetti. Mi era rimasto un cornetto, ho pensato che poteva benissimo usarlo per fare questa cosa. Quindi questo sarà il sugo. Invece per il ripieno, cioè per la pizza di patate, no, questo è il ripieno, per la pizza di patate, ho lessato tre patate, le ho schiacciate, ci aggiungerò l'uovo, il formaggio, sale, peperoncino, impasterò il tutto e poi quando il sugo sarà pronto metterò il pangrattato sotto, la pitta e il pangrattato sopra e lo farò cuocere nella mia padella fornetto. Quindi intanto cominciamo a preparare il sugo e a metterlo per il pangrattato sopra. Grazie a tutti. 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 Buona anche così, ma non serviva. Vi ringrazio di aver seguito e ascoltato fino adesso, di aver guardato. Vi ricordo di accendere la campanella se vi è piaciuto e se volete sentire altre ricette. E comunque se questa vi è piaciuta mettetemi un mi piace e mi farete un gran piacere. Per il momento vi auguro buon appetito e alla vostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.